E' giovane ma si è già fatta notare in ambito internazionale. Alfa General Contractor, con sede a Sesto Fiorentino, è un'azienda nata nel 2019 che conta ad oggi circa 100 dipendenti. Tecnicamente è un contraente unico, ovvero una società che opera nel settore edilizio e che racchiude in sé le funzioni di progettazione, costruzione e coordinamento di tutte le fasi realizzative. Grazie alla multidisciplinarietà dei suoi professionisti, Alfa General Contractor si fa pioniere dei principi della progettazione integrata. Noi facciamo edilizia sia tradizionale sia altro, ma soprattutto siamo un contraente unico, un contraente che prende l'idea dalla sua nascita fino all'esecuzione. Quindi noi progettiamo, costruiamo e consegniamo chiave in mano a Cotto di Terzi. Abbiamo due comparti, il primo di architettonico e ingegneria e il secondo di edilizia. Siamo intorno a 100 persone, abbiamo geometri, ingegneri di varie specializzazioni e abbiamo anche architetti e operai specializzati. L'azienda, che vanta 6 certificazioni di qualità, tra cui la SOA, fondamentale per eseguire lavori pubblici, ha già ricevuto importanti riconoscimenti a partire dall'ONU. Siamo stati premiati nel 2023 come un'azienda top 5 in Italia per la solidità e l'affidabilità finanziaria, ma anche a conduzione femminile. Siamo veramente orgogliosi, anche perché facciamo parte dell'ONU, siamo stati a New York, siamo stati invitati dall'ONU per partecipare all'Assemblea, perché noi rispettiamo i criteri della sostenibilità, tant'è vero che applichiamo la parità di genere a cui ci teniamo tanto e tante altre tematiche dell'ONU. Fra l'altro quest'anno, insieme al nostro bilancio ordinario, approviamo il primo bilancio di sostenibilità nella nostra azienda e siamo veramente orgogliosi. Naturale, visto il tema, guardare al contesto nazionale. L'andamento del mercato per Alfa è positivo e le occasioni offerte dal Superbonus, sceso nel 2024 dal 110 al 70% e dal Sisma Bonus, consentono a questa realtà di esprimere al meglio tutte le proprie potenzialità. Per quanto ci riguarda un settore che va molto bene, sia per quanto riguarda il Superbonus in senso stretto al 70%, sia per la parte dell'Iolus, sia per la parte sismico terremotato al 160%. Stiamo seguendo vari progetti, soprattutto in Toscana. Il primo cantiere nella zona terremotata lo stiamo seguendo a Barberino del Mugello, un condominio di 10 appartamenti. Speriamo di dare al più presto possibile una casa a queste famiglie che aspettano da tanto, da tanti anni, dove nessuno è andato a vedere com'è la situazione per alcuni immobili inagibili, di cui è questo immobile, quindi veramente sarà una grande soddisfazione per noi, per i nostri collaboratori, ma anche per queste famiglie. Non soltanto interventi a Barberino del Mugello, anche in altre parti della Toscana vi state occupando della costruzione ex novo di RSA. Esatto, noi ci occupiamo, al di là del Superbonus, anche di edilizia tradizionale, tant'è vero che stiamo costruendo un RSA in provincia di Pisa, e quindi a Santa Maria a Monte di 80 posti letto più il diurno. Alfa General Contractor è sempre in cerca di nuove figure professionali da inserire all'interno dello staff. Siamo sempre alla ricerca, perché noi lavoriamo in tutta Italia, non solo in Toscana, quindi siamo sempre alla ricerca di professionisti, architetti, ingegneri, geometri, anche operai specializzati soprattutto, quindi chi vuole benvenga per far parte del nostro gruppo. Grazie a tutti.